Alla sera, svettano i pioppi verso il cielo, vibranti di materia, libertà e spazialità. All'imbrunire le fate d'ombre camminano disegnando giochi sull'asfalto, poi s'affacciano contro i vetri delle dimore illuminate, premendo e ascoltando il regnante silenzio. Vecchi meditabondi, sogni di fanciugli e madri che rassettano. Qualcuno legge, qualcuno riflette contemplando il divenire della notte, qualcuno prega. Non c'è più tempo per i ricordi, non c'è più tempo neanche per sentirsi soli. Alla sera, spazio libero, puro, senza confini. Un mondo che si riempie di figure, volti, profili che si raccontano riflessioni esistenziali. Le forme del pensiero, definizione materica di un moto dinamico che si dipana intorno alle immagini di umane presenze. Un quadro dove le stelle la fanno da dominatrici e, ombre come figure affascinanti e malinconiche, incarnate nelle pose flessuose e immediate in divenire. Un microcosmo multiforme, ove il flusso potente della fantasia, si manifesta con la creatività dell'artista che c'è in ognuno di noi.